sono tornata qui per un addio lo immaginavo mi stavo prendendo in giro io adoro insegnare ed è questo che sono e se non sapessi fare nient'altro nella vita Jess andiamo tesoro io sono uno che non sa fare nulla eppure guardami non me la cavo poi così male è solo che fare l'insegnante era tutto quello che avevo sempre voluto fare sai cosa è proprio uno schifo la vita si la vita è uno schifo a volte sembra che migliori ma poi fa di nuovo schifo già e poi di nuovo schifo schifo nick cosa puoi fare il crudelle un'ultima volta datti una mossa imbecine no datti una mossa sei una pessima shot girl hai due mani sinistra il culo di legno Jess e secondo te quella è un vestito da shot girl sei ridico sono sbagliata credevo di dover fare la ragazza delle sigarette ora capisco perché non ci voleva tanto infatti sembri proprio una ragazza delle sigarette grazie